Allora, la manifestazione di oggi ha visto la conclusione di un itere che è già iniziato qualche anno fa e che ha avuto un intermezzo anche all'Aquila, perché abbiamo fatto l'Old Star of the Martial Arts anche all'Aquila, io sono dell'Aquila quindi vengo da lì, ed è stata un'ottima conclusione di un percorso in cui abbiamo premiato tutti i migliori maestri che hanno contribuito alla diffusione dell'arte marziale, maestri che hanno avuto passione, che hanno avuto forza, tenacia, tecnica, educazione e formazioni attraverso queste qualità hanno potuto insegnare alle nuove leve quello che sono le arti marziali. Una cosa auspicabile è che il prossimo anno cercheremo con l'anternino altri maestri che hanno oltre 30 anni di esperienza appunto per poterli premiare. Sono stato contento sia nell'inizio di quest'anno che quella dell'anno scorso di avere anche dei maestri giapponesi e quest'anno abbiamo premiato anche il maestro vietnamita Anguille Vammiette, per cui insomma è andata bene, è andata bene e ci rivediamo per la prossima edizione. Grazie.